Lo sai che esiste uno sport per tutti, che abbatte completamente le barriere generazionali, solo logica, niente azzardo, che annulla totalmente il fattore fortuna, che è una palestra quotidiana per il tuo cervello. È lo sport della mente. Gioca a Bridge, usa la testa. Disciplina sportiva riconosciuta dal CONI dal 1993. Cerca le scuole di Bridge nella tua città su www.federbridge.it